Bruxelles è pronta a ricevere la notifica di Londra per la Brexit. Così Michel Barnier, caponegoziatore della Commissione Europea per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Preserveremo l'unità e l'interesse dei 27 Paesi membri nei negoziati, ha spiegato Barnier, sottolineando che il mercato unico e le sue quattro libertà sono indivisibili. I negoziati per la Brexit dureranno meno di 18 mesi. Lo ripeto, tutto avverrà in breve tempo. Se Theresa May notificherà l'articolo 50 a marzo del 2017, il negoziato inizierà alcune settimane dopo per trovare l'accordo per ottobre 2018. La Brexit divide ancora il Paese. Una manifestazione contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea si è svolta a Londra davanti alla Corte Suprema Britannica, dove si esamina il ricorso della Premier. Theresa May ha contestato la decisione della magistratura, secondo cui deve avere il via libera del Parlamento prima di avviare le procedure formali per la Brexit.